Salve per la giornata della statistica, qui Walter Quattrociocchi del laboratorio di Data Science e Complexity dell'Università Caposcale di Venezia e sono qui a dirvi che lo studio dei dati è una cosa molto importante. Spesso ci stanno dicendo che grazie ai dati siamo in grado di capire la verità sulle cose, che i dati oggettivi ci stanno raccontando veramente come stanno le cose e che la disinformazione sta comunque sia essendo sconfitta dai dati contro le fake news, stiamo vincendo con i dati. Ecco, noi abbiamo scoperto con i dati che questa cosa non è assolutamente vera, nel senso che studiando i dati ci siamo resi conto che l'essere umano ha comportamenti molto diversi da quello che a noi piacerebbe avere e in ogni caso la scienza dei dati è una delle cose più belle che si possa avere e sono orgogliosissimo di insegnare questa materia all'Università e sono orgogliosissimo di vedere tanto entusiasmo riguardo a tematiche così importanti che finalmente guadagnano la dignità di essere studiate sotto un'ottica un pochino più quantitativa e meno speculativa.